Rischia alla chiusura il palazzo di giustizia di via Nazarianza a Bari, una inaccettabile condizione di rischio evidenziata nella relazione dell'INAI sulla idoneità strutturale dell'edificio che ospita gli uffici della procura e il tribunale penale. Nella relazione che potrebbe portare nei prossimi giorni allo sgombero dell'edificio si evidenziano le criticità della struttura, a partire dalla platea di fondazione, soli 30 cm insufficienti a reggerne il peso. Secondo i tecnici incaricati dall'INAIL non sussistono le condizioni per interventi efficaci e nel contempo non invasivi, ritenendo necessari e improcrastinabili interventi su platea di fondazione, pilastri, travi e pareti che rendano idonea la struttura. La mancanza di sintomi, si legge ancora nella relazione, non è condizione sufficiente per giudicare sul carattere incombente di un rischio per rottura fragile. I calcoli, talvolta eseguiti con ipotesi ottimistiche, confermano la presenza di un'inaccettabile condizione di rischio. Lo spessore della fondazione, la disposizione delle armature, la qualità del calcestruzzo e il fatto che il palazzo poggi su argilla sabbiosa rendono il livello di sicurezza straordinariamente ridotto. Al 90% chiudiamo e andiamo, così il procuratore di Bari Giuseppe Volpe ha annunciato l'alta probabilità di sgombero immediato. Grazie a tutti.